Ehi Charlie, Charlie me lo ritorni per cortegia all'atomizzatore? Dai, per piacere! Amici Vapers, benvenuti a un nuovo video in compagnia di Moreno. Oggi, dopo parecchio tempo, prendiamo in mano un RTDA, ma qualcosa di veramente grande. Vi presento Lussar, un bellissimo prodotto del Lussar Vape. Questa è la sua scatola, completamente fatta in legno, molto elegante. Il prodotto si stacca così, l'atomizzatore in questione è sprovvisto di dip, viene venduto così. È un atomizzatore da 22 mm e il suo alloggiamento è a vite. Questo, signori, è Lussar, tre lette di dissipazione, due asole, acciaio 316L, quindi parliamo di acciaio chirurgico, il logo Lussar Vape. Ora, prima di guardare il suo interno, facciamo, come sempre, il suo dimensionale, a tra poco. Questo fantastico RTDA è un atomizzatore da 22 mm. La sua altezza, sprovvista di dip, è di 20 mm, punto 3. Verifichiamo ora le sue asole. L'apertura delle asole è di quasi 3 mm. Ora vediamo di quante parti è composto Lussar. Lussar, in questione, questo atomizzatore da 22 mm, è composto da tre parti. Come dicevo, è un fantastico RTDA. Io non amo molto quel tipo di atomizzatore, ma questo la sa molto lunga. Guardiamo in queste parti. La sua splendida campana, con i tre anelli, come vedete, per la diffusione del calore. Anche l'interno, la tornitura è fatta da un punto stretto che va ad allargarsi. Attacco classico 510. La sezione interna, come potete vedere, ha una particolare lavorazione per il flusso d'aria. Sia per quanto riguarda il concetto del dip, che verrà appoggiato all'interno e ha una piccola precamera cavata. E poi ci sono le sue due asole. La sua vaschetta è molto particolare. Qui c'è molta sperimentazione, molta innovazione. La parte dorata è la sezione del positivo. Questa parte qui, invece, verrà collegata alla parte negativa della coil. Il foro centrale non è altro che la sporgenza del pin che fuoriesce, che ve lo faccio vedere dopo perché appartiene alla vaschetta. Per togliere questo deck bisogna smontare il pin BF. E abbiamo questi due fori dove andremo a inserire il cotone all'interno per pescarlo della vaschetta. Questo piccolo foro qui è un foro di riempimento. Se noi non vogliamo utilizzarlo in modalità bottom feeder, da questa sezione qui andremo a fare il nostro riempimento della vaschetta sottostante. Questo foro qui è il foro dove fuoriuscirà l'aria. Quando noi andiamo a riempire qui, questi fori sono ostruiti dal cotone insieme alla coil. Questo foro dell'aria ci permette di riempire facilmente la vaschetta facendo fuoriuscire l'aria in eccesso qui. Questa vite qui permette la regolazione dell'aria stessa. È un deck molto innovativo, particolare, studiato anche questa versione qui con delle asole per andare ad appoggiare la coil. Quindi avremo già un'altezza di riferimento per centrare le nostre coil. Guardiamo anche la parte sottostante. Ci sono le due viti che sporgono fuori e questa vite qui che è chiusa serve per la regolazione dell'aria. Quello che ci rimane è la nostra vaschetta, definiamola pure tank se vogliamo, che ha una profondità di 4 mm.3. Il pin che vedete è in bottom feeder particolare, sopra risulta pieno, i fori sono laterali all'estremità per andare a fare il riempimento della vaschetta. Il modello Usar RDTA numerato 133. All'interno della sua confezione in legno ci sono le sue parti di ricambio che sono così composte. Pin fisso, un O-ring per la chiusura, per questa sezione qui, e un O-ring più piccolo, che lo vedete questo qui, che viene messo in questa sezione interna. Eccolo qui. Nella nostra campana non c'è alcuna regolazione dell'aria interna, perché questo avviene una volta inserito all'interno del deck. Queste piccole asole, da questa parte e da quest'altra parte, sono veramente studiate in modo particolare per prendere il flusso d'aria di tutta la coil e concentrarlo. Quindi quando noi andremo ad aspirare, l'aria che entrerà in questo canale verrà trasmessa su tutto questo piano qui. La stessa cosa l'avremo dal lato opposto. C'è molta progettazione, molto studio qui per i flussi d'aria, per garantire una grandissima resa aromatica. Ora prepariamoci a fare la nostra prima rigenerazione. Sono praticamente sei spire. Abbiamo cinque piene e due mezze. Sei spire su una punta da due e mezzo di acciaio 316L26G. La coil è stata inserita. Fate attenzione a quando vi appoggiate in quest'asola, perché il pin è leggermente sporgente, quindi quando la adagiate dovete tenerla leggermente più alta. Vedete la disposizione che ho scelto io. Il flusso d'aria che poi andrà ad accompagnarsi la vaschetta deve andare a colpire parte bassa della coil. Tagliato il filo in eccesso, come potete vedere, sei spire leggermente separate. Sono cinque piene e due mezze, perché sono con connessione laterale. Il valore che ci è venuto fuori di impedenza è 0,45 Ohm. Ottimo per il nostro flour. Facciamo il nostro dry hot. La resistenza sta rispondendo molto bene. Perfetto. Dal centro verso l'esterno. Ora prepariamoci all'inserimento del cotone. Ma quanto cotone ci va in un RDTA? Beh, non vi resta altro che provare. Per fare questo lavoro ho svitato il tank dalla parte sottostante, ho fatto i due bei baffoni di cotone, ho fatto delle punte per inserirlo negli appositi fori che si trovano sotto il cotonaggio, ho lasciato due belle palle cotonate qui sotto. Io non faccio altro che tagliare a questa altezza. Il deck è stato chiuso, la vaschetta è stata riempita, operazione molto semplice. Ora andiamo a tamponare il nostro cotone, molto molto molto. Ora andiamo a chiudere il nostro atomizzatore e facciamo la nostra prova di svapo. Installato nella box per fare la prima prova di svapo, facciamo anche una piccola prova di squonk. Ecco, come avete visto, la vaschetta è piena. Ora andiamo a inserire la nostra campana, ho installato un dip in metallo, ci recchiamo sul foro dell'aria correttamente. Un valore resistivo di 0,46 ohm e lo proviamo a 22 watt. 24 watt è il suo valore ottimale per questa resistenza da 0,4 e devo dire che si comporta molto bene. Naturalmente il cotone deve ancora un po' preformarsi, sto utilizzando quello che ho bagnato io stesso. Il tiro con queste piccole asole risulta un flavor veramente aperto, molto aperto. Non pensavo, pensavo che fosse un tiretto più chiuso come ad esempio quello che ho provato nel video precedente, il chakra. Ma devo dire che risulta nettamente, qualitativamente superiore il flusso d'aria. È piacevolissimo. Un grandissimo prodotto. Nulla da dire, questo RDTA Usar Vape. Viene dall'est questo modern, l'Usar. L'ho anche contattato personalmente perché volevo maggiori informazioni per quanto riguardava tutti i fori dell'aria che si trovano all'interno del deck. E prima di fare la recensione ho voluto informarmi correttamente per darvi poi delle informazioni esatte. Usar Vape 22 mm RDTA. Signori, se vi è piaciuto questo video. A me è piaciuto tantissimo l'atomizzatore. Vi rinnovo l'invito di iscrivervi al mio canale perché voi siete la mia energia, voi siete la mia 18650. E un grande saluto anche dalle mie mani. Usar Vape!